la Cina già sta funzionando meglio da questo punto, cioè più efficace senza democrazia noi siamo qui, cazzo è impossibile c'erano le elezioni in Umbria e abbiamo parlato per due mesi delle elezioni in Umbria poi l'Italia si è fermata per le elezioni in Emilia Romagna e quindi mentre nel mondo c'è Greta Thunberg, i cambiamenti climatici, l'intelligenza artificiale le crisi globali eccetera eccetera, noi dobbiamo parlare per due mesi più due mesi, quattro di perché Di Maio se lascia 5 Stelle, appoggia l'Emilia se vince Bonaccini, i prossimi sei mesi dovremo parlare come grande tema di dibattito nazionale della Liguria della cosa, nel frattempo Xi Jinping non ha questo problema e può pensare a come si costruiscono le megalopoli cinesi per i prossimi 30 anni, perché lui non deve preoccuparsi di quello che effettivamente la popolazione pensa, dice, vuole ma il paradosso è che ormai mentre nell'Unione Sovietica il popolo era scontento e guardava all'America, all'Europa come il mondo libero i cinesi a parte quelli che diventano vittime dirette del regime due milioni di uiguri incarcerati nello Xinjiang i tibetani i Falun Gong i cattolici eccetera i dissidenti politici gli emarginati e i divianti di vario tipo ma la grande maggioranza della popolazione accetta questo scambio cedere della libertà per avere più sicurezza anzi si stanno arrabbiando adesso sul virus perché come noi vi cediamo la nostra libertà e voi non riuscite a garantire la nostra salute quindi questa cosa del virus è molto pericolosa per il regime cinese però ecco il punto o noi riusciamo questo succede perché loro i cinesi dico in generale vivono questo momento di grande boom economico adesso negli ultimi anni un pochino ha rallentato però effettivamente c'è la percezione che la vita di tutti stia migliorando noi ce l'avevamo convinti prima tu hai citato l'Unione Sovietica che le democrazie fossero l'unico mezzo per raggiungere il benessere economico e quindi naturalmente il destino di tutti fosse andare verso le democrazie adesso ci stiamo accorgendo che effettivamente non è così e che ci possono essere dei regimi di fatto delle democrature che comunque permettono certo ok noi in realtà abbiamo ancora una democrazia liberale con le sue difficoltà eccetera però è una democrazia che è in grave difficoltà economica e quindi a me sembra che tu parli di queste cose che sono io sono d'accordissimo sono molto molto belle molto da affrontare da indagare e ritengo che siano anche le questioni importanti per i prossimi dieci anni lo penso davvero però non sono sicuro che tutti quanti infatti non mi sembra che succeda seguirebbero su questa cosa perché ad esempio tu hai citato le torture la tortura è una di quelle cose che noi abbiamo spinto lontano abbiamo detto non deve succedere più quando io ero ero ragazzino ero bambino mi insegnavano che era sbagliato che torturare le persone era sbagliato ma anche discriminarle era sbagliato adesso stiamo tornando indietro almeno a me sembra e stiamo iniziando a dire la tortura è sbagliata per noi però se succede agli altri eh sì brutto però cosa ci possiamo fare cioè c'è questa chiusura come innanzitutto non so se tu sei d'accordo con me come pensi che questo possa sposarsi con i tuoi obiettivi che invece sono molto più nobili di questo ragionamento che invece è molto più materialista molto più gretto ma è uno scontro questo è uno scontro politico cioè non è che le cose andranno in una direzione o nell'altra io non sono né ottimista né pessimista penso che ehm le persone ma noi stessi ciascuno di noi non è un buono o cattivo ma questo anche le neuroscienze ce lo dicono cioè dipende da che cosa siamo sollecitati da quale informazioni con chi parliamo quanto siamo esposti dalle idee alle idee diverse dalle nostre ehm la stessa persona che vede diciamo la cosa il pedofilo buttiamo via la chiave pena di morte eccetera la stessa persona se gli fai vedere non sempre ma può capitare che poi se gli fai vedere una condizione disumana di un carcere di una cella di un carcere rifiuta quella disumanità quindi il problema è anche quello di come si nutre e di che cosa si nutre una democrazia quale informazione quale conoscenza poi certo uno resta non sto dicendo che tutte le persone se hanno tutte le informazioni allora discutono tranquillamente cioè il disaccordo rimane ma se la democrazia al contrario di quello che invece c'è in una dittatura dove l'informazione è scelta è scelta per l'interesse del potere o noi riusciamo a costruire una conoscenza e un patrimonio di conoscenza che faciliti il dibattito il confronto e che quindi aiuti a marginalizzare posizioni estreme ma perché inefficaci non perché semplicemente estreme oppure oppure le posizioni più anche violente rischiano di affermarsi è una sfida in corso non possiamo dire come andrà a finire le immagini dei lager libici le hanno viste tutti però io non ho visto questo è un'informazione sono informazioni dove le hanno viste come le hanno viste le ITG online pensi di no molto marginale molto marginale la coca cola la pubblicità la fa tutti i giorni tutti sappiamo che cos'è non dovrebbero avere bisogno di farla tutti i giorni di farci rivedere tutti i giorni questa bottiglia che si stappa bella fresca la cosa perché tutti i giorni perché tutti i giorni sono esposto perché devono convincerti a comprarla in quel momento certo perché sono sì certo ma perché ormai la nostra mente è bombardata da una quantità di informazioni sempre più grande a me non basta sapere che le cose succedono bisogna toccare vivere parlare con le persone cioè dopo di che io sono abbastanza fiducioso poi ecco non è che l'essere umano è buono allora noi dobbiamo avere fiducia che se ha le informazioni giuste sarà buono no ci sono c'è un livello di mediocrità di riflessi di pessimi in ciascuno di noi però essere più informati essere meglio a conoscenza delle cose aiuta aiuta contribuisce in positivo a che si prendano decisioni collettivamente migliori che non le decisioni dettate da condizioni di ignoranza di paura ma le cifre che dicono che gli italiani pensano che gli immigrati siano il 25% invece sono ma perché non perché gli italiani sono stupidi ma perché la paura e la diffidenza distorce la percezione della realtà di la l'arga di di l'arga di